In questi dieci anni ho visto l'azienda evolversi radicalmente e l'IoT è la forza trenante di un nuovo ulteriore cambiamento. La nostra sfida non è soltanto cambiare, ma è creare valore aggiunto per tutti gli attori della filiera. È importante creare un legame forte tra fabbrica, concessionario, tecnico e barista. Connetto una macchina è semplice, basta una scheda elettronica. Pi' difficile capire quali servizi ottenere grazie alla connettività o come utilizzare i dati raccolti. Per la Marzocco abbiamo cercato scalabilità, flessibilità dei servizi e un modello innovativo a sottoscrizione in linea con il trend di crescita dell'azienda. Con un'attenzione maniacale alla sicurezza, tutto deve essere estremamente sicuro. Se non c'è sicurezza integrata in ogni parte del processo, si può perdere con grande facilità un vantaggio competitivo sviluppato in anni di ricerca e sviluppo. Il progetto pilota delle macchine connesse raccoglie dati al fine di monitorare e allungare il ciclo di vita delle nostre macchine, andando anche a migliorare la qualità dell'espresso in tazza. Il processo decisionale alla Marzocco è cambiato grazie all'aiuto dei dati, che ci aiutano ad avere una visione più completa. Le macchine collegate all'IoT ci daranno l'opportunità di lavorare su tre punti fondamentali per lo sviluppo del nostro futuro. La durata delle macchine stesse, la qualità della bevanda in tazza e la salute del consumatore. E quando avremo dati sufficienti, potremo addirittura pensare di sviluppare le macchine nel futuro.